Questa professione è molto complicata. Mi piace perché comunque c'è una parte di responsabilità notevole in cui il risultato spesso dipende anche da noi. Lavoriamo anche con cardiopatie molto complesse e questa cosa è anche una sfida che spesso dobbiamo cercare di superare. L'ambito del perfusionista è vario, nel senso che può fare dalla perfusione, quindi dagli interventi a cuore aperto, dalle assistenze, quindi ECMO. Facciamo anche, si può fare anche la chemi-ipertermia in ambito oncologico, anche assistenze cardiache, facciamo ECMO dato asporto.